Ciao amici e benvenuti in questo ultimo giorno di tour, siamo ancora in Francia, siamo ancora in Loira e stiamo ancora vedendo i castelli, quello di oggi è il castello di Chambord che è il castello più grande e più bello che c'è in tutta la valle un po' di informazioni utili che vi posso dare è che il costo del biglietto è di 13 euro più c'è la possibilità di acquistare due tipologie di audio guida c'è una classica quella con le cuffie, un'alternativa c'è l'homepad che ti fa vivere a 360 gradi in modo virtuale e l'esperienza un consiglio che vi do è venite presto perché noi nonostante siano le 9 abbiamo fatto la fila sia per prendere il biglietto sia dovremo fare la fila anche per entrare quindi armatevi di tanta pazienza perché comunque questo è più visitato e più grande già ve l'ho detto e quindi di conseguenza c'è maggiore affluenza di turisti noi ci cominciamo a mettere in fila, andiamo grazie a tutti molto interessante sono due ore che siamo qui dentro abbiamo fatto 0 e 1, manca 2 e 3 dai che può essere per cena ce la facciamo ce la passano la cena si dobbiamo andare in cucina quindi riscende nuovamente di sotto un belizzo ci arriva il castello di soffa mamma mia che è immenso immenso, non finisce più non finisce più Allora ragazzi termina qui questa nostra avventura in giro per la Francia abbiamo visto la Normandia, abbiamo visto la Bretagna, abbiamo visto la Loira e devo dire che molto probabilmente non c'è stata una regione che ci è piaciuta più delle altre ma per il semplice fatto che sono state tutte e tre belle perlomeno le città che noi abbiamo visitato sono state una più bella dell'altra forse ecco potrei mettere come prima le Mont Saint-Michel ma perché comunque è suggestivo l'avere questo isolotto che viene bagnato dalla marea e poi quando c'è la bassa marea c'è tutta la terra intorno quindi probabilmente è più caratteristico ci sono anche i castelli molto belli qua della Loira, questo di Chambord è qualcosa di incredibile il consiglio che vi posso dare è partite magari dagli altri e poi finite con questo perché noi abbiamo visto gli altri giorni quello di Villandria, abbiamo visto quello di Chenonceau arrivare a questo poi fa perdere di significato il valore di tutti gli altri castelli la Bretagna ci è piaciuta San Malò, è stata una bellissima cittadina sul mare ci è piaciuta Cancal con le sue ostri quindi diciamo che ci è piaciuto tutto dai ragazzi c'è stato un bellissimo viaggio siamo anche stanchi, devo essere sincero perché abbiamo fatto tanti chilometri tornati a Roma dovremmo chiudere con quasi 5.000 chilometri quindi abbiamo fuso la macchina praticamente il video finisce qui così come tutta la serie se vi è piaciuta vi invito a lasciare commenti a mettere un like e a condividere noi ci vediamo alla prossima avventura ciao da me e da Chambord e da quegli altri che stanno là giù 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 aspetta vi faccio vedere ecco lì là giù, li vedete là scansa fatiche musica